Ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa, dodicesima edizione del microfono d'oro, condotto ideato, organizzato, diretto da Fabrizio Pacifici, è appena terminato con grande successo e abbiamo qui dei premiati d'eccellenza. Abbiamo con noi il trago Andrea, poi abbiamo con noi il sbambinato e il diritto di cronaca di Antetanino Belandri, ecco qua, noi lo salutiamo ovviamente. Ci sono due radio web, cioè Radio Motto e Radio Salvatore, e io sono il registrante. Perfetto, perciò... Una volta erano già da vietti, erano 20 anni uguali quest'anno. Esatto, adesso c'è un nuovo look e ti dona molto. Grazie. Perfetto. Perfetto. Un saluto. Un saluto a tutti i fan. Ciao, salutiamo, salutiamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, direttamente dalla Protomoteca del Capitolio. Ciao.